Continua la campagna di sensibilizzazione degli anziani contro le truffe, poliziotti della questura di Padova presenti agli ingressi di alcuni supermercati del gruppo Despar per distribuire volantini e parlare dei reati di truffa. Si cercherà di dare una comunicazione tramite un opuscolo a tutte le persone che hanno necessità di sapere cosa fare se succede una truffa. Sono vari i raggiri che vengono messi in atto contro gli anziani dalla chiamata di un finto avvocato che annuncia problemi a figli o nipoti ai finti addetti di gas e luce che chiedono di entrare in casa. Il consiglio delle forze dell'ordine è di non aprire a chi non si conosce. Quello che noi raccomandiamo principalmente è di non aprire la porta a chi non si conosce anche se sembra che indossi una divisa perché è difficile riconoscere una divisa vera per chi non la vede tutti i giorni o non la indossa. Non aprire la porta vuol dire già mettersi al sicuro. La polizia invita a denunciare sempre anche quando si prova vergogna per quello che è successo. Questi reati vengono commessi da persone senza scrupoli, molto abili nel raggirare soprattutto le fasce deboli e soprattutto chi è da solo. Per cui non bisogna vergognarsi, non bisogna avere timore di denunciare, anzi è fondamentale per noi per individuare chi è stato.